non si richiede la rinuncia a tutti affatto i beni di questa vita questi argomenti che io ho recato sinora provano per sé che quando pure si trattasse di rinunziare a tutti affatto i beni di questa vita per assicurarsi gli eterni sarebbe folia somma anteporre il presente gaudio al futuro ma tanto non si richiede dio non vietò ad adamo tutti i frutti del paradiso terrestre gli vietò solo un albero e quanto era più facile la condizione con cui adamo poteva assicurare a sé stesso e a tutti i suoi posteri la sua felicità tanto fu più deplorevole la sua stoltezza nell'averla così poco perduta così è del caso nostro sono onesti beni innocenti piaceri che tu godi segui pure a goderli in pace che se per le brave intenzioni della tua mente o per uno sregolato modo con cui te ne usi e li ami ti si rendeva illecito quello che aggiunto ad altre circostanze può divenir lecito non altro si vuole da te se non che riformi il cuore e regoli l'uso poiché anche dopo aver goduto in questa vita di quei doni e di letti che o sono onesti in sé o tali si possono rendere dal modo di usarne si può da essi passare al gaudio eterno del cielo come dall'imperfetto al più perfetto tutto si riduce alla necessità di privarsi di quei falsi beni e piaceri che in sé sono turpi in guisa che per nessuna via si può far loro cambiare la natura di male che ad essi intrinseca quando si tratta solo di privarsi di un delitto vilissimo che disonora la tua ragione con la sua malizia mentre puoi con abbondanza godere di altri beni a te permessi tanto maggiore sarà la tua stoltezza a voler perdere gli eterni i quali ti si promettono in compenso incomparabilmente vantaggioso anzi senza tanto aspettare in questa vita medesima sarai compensato con sovrabbondanza di gaudio